Grazie Presidente, grazie ai consiglieri per il loro feedback sul regolamento di cui stiamo discutendo oggi per la prima volta in Roma Capitale. Ricordo che il servizio è attivo fortunatamente, aggiungo anche da decenni, ne stiamo parlando oggi. Detto questo, rispetto alla questione emendamenti, mi preme evidenziare una cosa, che gli emendamenti da una parte recepiscono l'utilissimo apporto degli uffici, ma ci tengo anche a sottolineare che il ricepimento di quei feedback formali e tecnici che sono insiti nei pareri dei due dipartimenti coinvolti si sarebbero chiusi in una paginetta e mezza e non erano pareri negativi ma pareri con osservazioni. Il motivo per cui sono nove pagine di emendamenti, perché abbiamo presentato nove pagine di emendamenti, è perché abbiamo effettuato un confronto in tutto il territorio di Roma Capitale, nei municipi, parlando con gli operatori, parlando con i sindacati, parlando con gli organismi, parlando con gli uffici, con i dirigenti scolastici e via dicendo, confronti che hanno consentito di arrivare a delle osservazioni meritevoli, osservazioni che sono state poi approfondite e quindi alcune di queste sono confluite poi in questo emendamento, che non è stato presentato una volta ma almeno un paio di volte in commissione. Detto questo, rispetto ad alcuni temi sollevati che riteniamo assolutamente importanti e che sono ben declinati in questo regolamento, uno è il tema della continuità educativa che è fondamentale e lo diciamo a chiare lettere nell'articolo 3 in cui viene evidenziata la continuità educativa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e successivamente nel resto del testo del regolamento viene ripreso questo principio. L'altro aspetto che invece riguarda la consumazione del pasto, noi abbiamo avuto un primo momento in cui credevamo convintamente di poter portare avanti un principio che può sembrare che è giusto ma ricordiamoci che non sempre giusto significa legalità, quindi sull'aspetto della consumazione del pasto a favore degli operatori che, ripetiamo, rivestono un ruolo fondamentale, i margini di intervento dell'amministrazione comunale sono declinati e vincolati nell'ambito di quelle che sono le proprie prerogative e quindi come tale, dopo una serie di approfondimenti fatti anche in occasione della discussione per un altro importante regolamento che abbiamo illustrato in commissione con la Presidente Zotta sulla riflessione scolastica, siamo convenuti ad una formula che è il massimo a nostro avviso di quello che si può fare in questo contesto. Potremmo dire anche che una volta gli operatori erano dei dipendenti comunali, oggi sono quelli dei dipendenti comunali, sono una categoria in estinzione, ne restano circa 10-15. Bene, quella scelta di esternalizzare il servizio, un servizio fondamentale, come giustamente ricordava l'onorevole Fassina, non è stata fatta da questa amministrazione. Oggi ci troviamo a giocare con queste carte sul tavolo e con queste dobbiamo cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Noi crediamo che, come più spesso detto in occasione dei confronti, questo regolamento non sia un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. L'amministrazione doveva e deve avere un regolamento, così come in un servizio fondamentale, come diceva l'onorevole Fassina, sicuramente un LEA, su questo siamo d'accordo anche con l'assessore Baldassarre, ma in tutti gli ambiti dell'amministrazione. Quindi per questo è stato istituito un sistema di monitoraggio che non è assolutamente amministrativo, così sembra quasi a svilire lo scopo di questo sistema, ma è un sistema che vuole monitorare proprio la qualità del servizio erogato e lo fa con le famiglie. E non solo ci fermiamo qui, ma questi dati, frutto del monitoraggio, saranno resi pubblici. Io non ricordo di aver mai visto nulla del genere in questa amministrazione, ma non credo che ce ne siano ad esempio così in tutte le amministrazioni comunali del Paese. Credo che questo regolamento, frutto di un lavoro partecipato, e ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito, dalle famiglie agli uffici, ai nostri collaboratori nel gruppo Movimento 5 Stelle, che tutti hanno partecipato con passione ad un tema che è evidentemente un tema importantissimo perché va a tutelare una categoria dei fragili, tra i fragili, alunni con disabilità. Grazie.